Dunisiani ho superato questa cosa infernale Eh vi ricordate dallo scorso episodio che ero arrivato qua praticamente E adesso supereremo anche questi nuovi ostacoli magnifici che c'è posto davanti A questa cosa molto strana Ma non so cosa sto dicendo ma perfetto sto andando bene Allora forza andiamo Eh guardate qua eh forza adesso guardate che si risparmia un sacco di tempo facendo così eh Porca miseria Olè Siamo arrivati Perfetto 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 Allora adesso dov'è che dobbiamo andare Bah chi lo sa forse da questa parte Sicuramente da questa Mannaggia stiamo attenti che qua sul ghiaccio si Ma se faccio così proprio bam No Madonna mia ma no Mi sto innervosendo dunisiani Olè Fatto 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 Forza forza perfetto perfetto Ok perfetto abbiamo risparmiato un po' di tempo Allora cos'è che devo fare ora Non lo so forse dobbiamo andare da questa parte Oppure da questa parte Dove caspita dobbiamo andare Dove siamo qua Dobbiamo andare da questa Forza forza Eppela Eppela avete visto ce l'ho fatta Eppela Mamma mia Siamo siamo troppo pro Poi qua cos'è che Ah Avete capito Allora stiamo attenti eh Qua alla testa perché Ovviamente E Olè Un due tre Perfetta Ok adesso Là si deve andare Vedete Olè Ok perfetto ce l'ho fatta Adesso Dobbiamo proseguire in questa Caverna oscura E Stare attenti a queste cose Però tranquilli dunis è un pro Dei parkour Quindi Dobbiamo stare attentissimi però Perché qua Son caduto Siamo passati Bastava solamente correre velocemente Ok perfetto qua dobbiamo saltare Però E son coi perfetto Ok mamma mia Allora qua però Dobbiamo stare attenti Perché qua non mi fido Non c'è un checkpoint Un Point check Un Shang check Eh Domanda domanda Allora però dobbiamo stare attenti Perché se qua Cadiamo Olè Ovviamente Ok ci siamo quasi Perfetto No Dai come io pensavo Pensavo ci fosse il checkpoint Eh però scusate ma sono un po' Sciocchini Per non dire qualcos'altro Eh Eh che cattivi che sono Ma scusate ma se io voglio il checkpoint Non posso averlo Eh Cioè Perfetto Dai su Tac Oh perfetto Ce l'ho fatta Allora Adesso dov'è che dobbiamo andare Ah boh Non ne ho idea Ah ah Eccolo qua Da questa parte Olè Forza Forza eh Olè Mamma mia Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Non so però Io sono tutto quanto scioccato Perché qua Ah questo è tipo un salto Super difficile Eh mi sa Mi sa Mi sa Olè Mamma mia Mamma mia Che proagine Che proagine Dov'è che devo andare Da quella parte là Allora eh Guardate qua la proagine Porca miseria Mamma mia Mamma mia Che proagine Che proagine Che proagine Ah troppo semplice Troppo semplice Sono i geni Eh Troppo semplice Troppo semplice Ah voi sapete no Nella mia serie di parkour Praticamente ci sono i cani Che abbaiano Come faccio ad aprire Sta cosa Ah devo andare da questa parte Guarda qua Guarda Perfetto Perfetto Stiamo attenti eh Perché dobbiamo far così Ma No 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 Forza Forza Perfetto Ce l'abbiamo fatta Siamo troppo pro Cioè Troppo troppo pro Siamo Ok Guardate Ah oh mamma mia Ho capito Ho capito Allora Devo andare da questa parte Mi sa prima di tutto Però dobbiamo stare attenti Alla testa Perché Olè Poi praticamente Dobbiamo prendere così E la 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 Stiamo attenti Perché qua Possiamo Ci risiamo Stiamo attenti E mi raccom Mi Vi raccomando a tutti quanti Di stare attenti Oh Perfetto Allora qua Ah Avete capito Avete capito Sì che avete capito Dobbiamo saltare su quei letti là E perché Praticamente Ho capito tutto Non vi dovete proprio preoccupare Ho capito come funzionano quei letti Praticamente io ci camminavo Allora È difficile da spiegare Però Forza Facciamo così Adesso questo è un gioco da ragazzi Cioè nel senso Lo sanno fare pure pesci Però guardate praticamente Qua Non si deve più camminare Dai Ok perfetto 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 Ce l'ho fatta Finalmente No Denizia Io qua sclero troppo In questi parkour Perché porca miseria Sono difficilissimi Però Cosa Cosa devo fare Ma dai Su Ma Dove devo andare Ah Ho trovato la strada Dove Da qua Questa No da questa Perfetto Così Vai 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 Perfetto Perfetto Allora qua Satiamo qua Perfetto Ok ho capito tutto Ho capito tutto Allora E stiamo attenti Perché qua Ci volevano farla finta Però Noi siamo troppo pro Troppo pro Olè Perfetto Allora Però Da questa parte Adesso Giusto Sì mi sa di sì Perché Qua si sale Sui diamanti Poi qua Si sale Sulla redstone Molto bene Poi dopo Dove Ah Si va da questa parte Però stiamo attenti Perché qua Si può cadere In Pochi secondi Perfetto Ok perfetto Ci siamo Ci siamo Salta su Perfetto Perfetto Che cosa Perché qua Succede questa cosa Perché Non so Mi fa venire Il giramento Di testa Eccoci Lo sapevo Io il perché Si dove andare Da questa parte Perché ovviamente No Olè Olè Perfetto Adesso Si deve andare Da quella parte Ma un giochetto Da ragazzi Che Guardate Non ve lo dico Nemmeno Una roba Troppo Semplice Per me Allora guardate Olè Ok perfetto Ma aspettate Dove Ok da questa parte Adesso da quella parte La Olè Sono stato stupido Vero No 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 È giusto 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 Da questa parte Gioco da ragazzi Ovviamente Se vai 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 Perfetto Perfetto Non lo dico nemmeno Ma so C'è perfetto È Un giochetto da ragazzi È una roba Proprio Pazzesca Però Ora Sono leggermente Intrappolato qua Cioè Dove Dove Aha Avete capito Avete capito Birbantelli Birbantosi Guardate Guardate Ok perfetto Stiamo attenti Perché qua Si può cadere Da un momento all'altro Mai Mai E poi Mai Eh Oh mio dio Mai E poi Mai Allora stiamo attenti Facciamo così Perfetto C'è No Duniseni Allora A parte che sono Tipo bravissimo Perché C'è modestamente Però Là Mamma mia Che proetudine Qua Bisogna fare una Mossa magica Avete visto C'è Porca miseria Non ve lo dico nemmeno Però C'è la bravura di Dunis È incontrollabile È una bravura Assolutamente assurda Allora Dove devo andare A parte le Le cavolate Che dico Volevo dire Ah Avete capito Allora Ok Perfetto Perfetto Ma C'è C'è Dunisiani Ma c'è Che bravura Cosa c'è là Ah Avete capito È l'isola Iniziale Allora Se deve andare Da questa parte Mi sta Tipo nell'acqua Giusto Vediamo Vediamo C'è niente Qua Avete Sì 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 Capito 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 Guardate Qua si deve andare Praticamente qua Sull'albero E allora Se si sveglia Però sto logo Perché Olle Mamma mia Che proetudine Perfetto Ci abbiamo fatta Ok Checkpoint E si passa al prossimo Allora qua Cosa Cosa Come quando Perché Lalalala Avete visto Sto per cadere Ma Ho i riflessi Pronti Più pronti Che quelli Di una faina Qua secondo me Sono scemo Perché sto continuando Ad andare avanti così No invece Giusto Perfetto Ci siamo Abbiamo Oltrepassato I cactus Ed adesso Dobbiamo Andare Dove Cioè Forse ho capito io Ho capito tutto Della vita Come funziona E come non funziona Perfetto Allora E da questa parte Adesso Forza Forza Dai Su Non mi fa perdere Tempo Dai Cioè Nel senso Dove devo andare Forse da questa Può essere No qua No no È impossibile Cioè non è fattibile Dove Allora Per forza da questa Secondo me Per forza 100 100 Dai dai Madonna Dai Rompicocoglion Vabbè Avete capito Dai Questa parte Direi che Qua siamo a posto Cioè nel senso Però Porca miseria Siamo arrivati Tipo super in alto Vedete Chissà come continuerà Seguite questa serie Se volete Sapere come continuerà Però Perché io qua Non so veramente Posso riprovare Un'ultima volta Tipo a fare questa cosa Però Vedete Non è Non è fattibile Come Come funziona Cioè allora O c'è qualcosa da fare qua Tipo qualcosa che non cosa Tipo no Fare tipo C'è qua Ok Forse Sono stato Sono stato scemo io Mi sa E beh E beh Forza No 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 Era giusto Era giusto Dunisiani Dunisiani E beh Dunis è bravissimo Perché ha trovato La strada Mamma mia Ha trovato pure il checkpoint Che bravura Che bravura Quindi Noi ci vediamo Al prossimo Mi raccomando Mi raccomando Iscrivetevi al canale Scrivete Elastico Se siete arrivati Meno a questo punto del video Perché Vi do Vi do il cuoricino E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Dunisiani Ciao Ciao